Tra le 25 persone raggiunte da misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta per reati contro la pubblica amministrazione nel comune di Celano, c'è anche il presidente del Parco Nazionale della Maiella, l'architetto Lucio Zazzara, sottoposto a divieto di esercitare le attività professionali per un anno. Il deputato pentastellato Andrea Coletti annuncia che nelle prossime ore presenterà un'interrogazione al ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani. Zazzara, che è anche consulente del comune di Montesilvano, prosegue Colletti, fu nominato alla presidenza del Parco della Maiella a ottobre 2019 dall'allora ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Nelle mie interrogazioni al ministro della Transizione Ecologica chiederò come intenta agire ora che Zazzara è interessato dal divieto di esercitare attività professionali. Un caso insomma che sta agitando le acque del Parco Nazionale della Maiella per riprendere il nome della maxi retata dei carabinieri a Celano ovvero acqua fresca che ha portato agli arresti, tra gli altri, dell'ex parlamentare Viccone e del sindaco Santilli.